ciao torino san pietroburgo privi a turin peter buonasera a tutti e benvenuti siamo qui alla c hotel marriott siamo qui per il nostro nuovo format world cocktail tour torino san pietroburgo e chi abbiamo stasera qui come ospite d'onore il nostro fotografo madrelingua russo sergei kauska sergei come ti sembra questa esperienza nostra di questo nostro format e tra l'altro benvenuto di essere di aver accettato il nostro invito sono contento di essere invitato da merella rocca con questi grandi eventi che fa questo evento oggi diciamo famoso perché fa amicizia tra due grandi città torino e san pietroburgo oggi presento una piccola mostra qua ecco parla c'è tutto di questa tua nostra di queste due foto che hai scattato in giro un po per il mondo si qua sono diversi ragazzi da tutto mondo la nigeria da africa sud russa ucraina moldava urmina tutti 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 quanti qua abbiamo fatto tanti progetti di body painting proprio sono bellissime bellissime allora io faccio che augurarti una bellissima serata e venite venite apprezzate l'arte di questo grande fotografo ciao alla prossima grazie mille mille rocca grazie grazie a tutti buonasera a tutti siamo a torino san pietroburgo è una serata italo russa quindi non poteva mancare un artista russo siamo qui a questa bellissima mostra fotografica dell'artista russo sir gay quindi questo è solo l'inizio poi ci saranno altri tantissime altre sorprese a dopo da nicole kappa ciao e benvenuti alla torino san pietroburgo ciao torino di san pietroburgo ispiteras club ovvio ciao torino san pietroburgo buonasera a tutti siamo a questo evento qua a torino torino san pietroburgo e noi siamo bruno a couture abbiamo portato le nostre creazioni per fare sfilare a queste belle ragazze ciao torino san pietroburgo ciao torino san pietroburgo ciao torino san pietroburgo ciao torino san pietroburgo ciao buonasera sono arianna roselli siamo qui all'autowa alla hot el by marriott Come sfondo vedete ci sono delle fantastiche fotografie che sono state catturate dal magico Sergei Kauska, qua presente con gli abiti di Dana Zidaru abbiamo rappresentato un matrimonio finto e stasera faremo due sfilate con gli abiti di Couture, presenteremo un abito da giorno e un abito da sera, il magico fotografo sarà Sergei Kauska, buona serata. Buonasera, siamo qui all'hotel Marriott di Torino, innanzitutto per fare una bella serata divertirci ma per promuovere il buon gusto e lo stile, i ragazzi indossano vestiti dell'atelier Charmin della stilista Maria Antonia che anche in queste foto abbiamo rappresentato con la bellissima Arianna, foto del grandissimo Sergei, speriamo di divertirci anche questa sera e buona serata a tutti. Sì, anche se non gli aveva come in prima. Già ho amarsi sempre, anche ad una stilatura, ad una abiturabotata e una abituraboltata e una amici sempre, dove hollo proprio con uno e buone, mi sonoiamente Micello, una oggi e io mi sono mai una cosa stagione, mi sono mai Tedeschi, del榜, io ho sendi un video... Mi sono in tempo, e poi andiamo lì, e io mi sono in tempo, ma sempre, e io mi ero spesso, non volo. Perchéna fa' un sessi 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 e sessi e sessi senti su tutte le persone a tutti i ragazzini, tutti i ragazzi, le sessi 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 satu With me I wanted 8 orgasms when you know what to be after 1 and 1 I wanted to eat and I had my eyes closed all by the time And do you know what I mean? Oh my god, I felt so slippery Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.